Restituita alla comunità di Pratola Peligni e la cassetta delle poste di Via Carso, vittima nel passato di incurie e di atti vandalici. L'iniziativa è partita da poste italiane dopo il disagio riscontrato dagli utenti. Nella cassetta postale non venivano inserite solo le missive, ma di tutto e di più. Poste italiane con efficienza e rapidità, spiegano da TG il direttore del centro primario dell'istribuzione di Sulmona, Alessandro Sabatini, ha provveduto alla sostituzione della cassetta postale danneggiata. L'azienda, prosegue Sabatini, conferma in questo modo il suo profondo interesse verso il territorio, assecondando le esigenze e le comodità dei cittadini. È un'espressione di velocità che l'azienda ha voluto rappresentare a favore del territorio e a favore di tutte quelle persone che appunto utilizzavano questa cassetta per depositare la corrispondenza in partenza da Pratola Peligni. Una cassetta che più volte in passato ha subito degli atti vandalici, addirittura è stata persino incidentata, ma con velocità Poste si è impegnata al ripristino con una nuova cassetta che da ieri è già funzionale. E questo conferma come Poste sembra a servizio del territorio, anche per una comodità dei suoi utenti. Poste è un'azienda che è radicata nel territorio e vive per territorio. E a fianco al territorio episodi come questi ne testimoniano la veridicità di questa velocità e di questa vicinanza alle persone che hanno bisogno. L'incolumità della cassetta postale è rimandata ora al buon senso di tutti. Poste italiane intanto fa sapere che sono sette le cassette rosse della posta Pratola Peligna e si trovano nel piazzale della stazione, in piazza Primo Maggio, in via Perprezza 4, in piazza Madonna della Libera, in piazza Garibaldi e in via Colella. La posta viene ritirata alle ore 12 da lunedì al venerdì.